Sono Mauro Adani, al forum di Asago un nome, una garanzia, forse una promessa, una minaccia, certamente qualcosa di magicamente emozionale, un'atmosfera d'autore come si dice qui sulla Sposa TV ed è un onore per me potervi ospitare qui in questo stand, in questa area magicamente allestita per potervi parlare di tendenze, di amore, di passione, tutto ciò che contraddistingue veramente dal mio cuore, gli stili e le tendenze per le spose del 2015. Si parla di bianco, si parla di un qualcosa di prezioso, trasparente, un colore che non esiste se non nei nostri sogni e questa è la vera tendenza, non il solito colore banale o già usato dalla nostra amica o per la quale dobbiamo accendere tonalità più vive, più accese, più spettacolari. Io sono qui per raccontarvi una storia diversa, una storia fatta di sussurri, di atmosfere ovattate, di dettagli preziosi che possano contraddistinguere esclusivamente il vostro matrimonio. Questa è la ricetta giusta per voi, affidarvi a un esperto, a un appassionato, a un innamorato che possa fare del vostro matrimonio un evento unico, esclusivo, dove la coppia vinca e gli ospiti possano gioire per voi. I love Domodani. Ciao! 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 Ciao!